Ti piacerebbe, vero, farti un bel PIR? Ma che cos'è sto PIR? Benvenuti a tutti, in questo video vediamo finalmente il PIR di Directa. Ma iniziamo soprattutto con che cos'è il PIR. Il PIR, Piano Individuale di Risparmio o qualche significato simile, è un'invenzione che c'è in Italia, nella burocrazia italica, già da un bel po' di tempo. Qualcuno si è detto, ma perché non incentiviamo il risparmio degli italiani e gli lasciamo aprire loro un piano di risparmio purché non tocchino gli investimenti per almeno cinque anni e quindi siano degli investimenti a lungo termine. Faccio notare come l'ottica del governo per investimenti a lungo termine è cinque anni, cosa su cui io dissento totalmente almeno dieci, direi. E quindi si sono inventati questo PIR che è la possibilità per i privati di aprire un piano di investimento in cui non toccano i propri investimenti, deve essere in azioni, non li toccano per almeno cinque anni. Forse così sarebbe l'ideale, diciamo, è un piano di investimenti, somiglia vagamente a un sistema che c'è ad esempio in Inghilterra e questi investimenti non sono tassati, quindi non hai nessuna tassa. No tassa plus valenze, no tassa dividendi. Fin qui tutto a posto, sarebbe l'ideale se così fosse, vero? Eh no 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 no, non si può fare così in Italia però, troppo semplice, troppo semplice. Vediamo cosa ne pensa il ministro delle finanze dell'epoca. Mmm, abbiamo inventato questo PIR, ma bisognerebbe dargli una sventagliata patriottica, non è che potremmo metterci qualcosa di patriottico? Mmm, che so, forse potremmo limitarlo soltanto alle azioni italiane. Lei cosa ne pensa, Stagista 1? Sì sì sì, mettiamo una bella regola che lo limitiamo alle azioni italiane, ma possiamo... sì sì sì, ottimo ottimo, solo azioni italiane, diciamo, al 70%. Ehm, mi scusi ministro, sono l'aiuto stagista, ma come facciamo a definire italiane esattamente? Cioè, cosa guardiamo, quotate in Italia oppure la sede legale? Lei, aiuto stagista, non farà mai carriera in politica. Chi se ne frega a definirlo? Dai, buttiamo lì. Sede legale in Italia, può starci. Mi scusi ministro, ma poi l'Europa si lamenta che stiamo discriminando le aziende europee rispetto a quelle italiane. Uff, che rompi coi questi dell'Europa. Vabbè, mettici allora, aggiungi, scrivi, aggiungici anche con aziende europee, ma che abbiano però una sede operativa in Italia, eh? Una sede operativa, mi raccomando. Eh, ma così basta che abbiano un mezzo ufficio smarzo in Italia e va bene. Vabbè, ok, io scrivo. Ministro, ministro, ma se facciamo così? Poi gli italiani si riempiono su delle solite cose di Enel, Generali, Unicredit, Intesa San Paolo. Ma da quando in qua ci capisci tu di finanza. È vero, poi gli elettori ci accusano di dare soldi ai soliti noti. Allora, sì, scrivi. È vietato acquistare azioni di Enel, Inter San Paolo, Generali e Unicredit. E, ministro, le ricordo che quelle le hanno dato i soldi per la campagna elettorale. Cosa stai dicendo? Non ho preso soldi da nessuno. Mi hanno votato gli elettori. Però va riformulata in effetti, perché così ci cacciano ricorso in costo costituzionale. Tu con i tuoi problemi, aiuto o stagista, non diventerai mai stagista. Dunque, scrivi. Quindi devono essere azioni, almeno il 70% devono essere azioni non incluse nell'indice Fuzzemib. Così può andare. E vorrei gentilmente far notare che l'indice Fuzzemib cambia nel tempo. E se una persona non può vendere, come fa? Come dice Franco Amuglia, cazzo mene. Ministro, ministro, mettiamoci dentro anche quelle piccole. Quelle che non si fila a nessuno, tipo Alfonsino. Quelle piccole, piccole. Dai, anche un po' di quelle. Ma sono quelle che fanno uno scambio a settimana. Quelle. Non possiamo obbligare la gente a comprare anche quelle. Bravo stagista. Giusto. Il governo aiuta le piccolissime imprese. Mettiamo l'obbligo del 5% in imprese che non sono neanche nell'indice Fuzzemib medium caps. Quindi proprio quelle small caps. Così mi piace. Questa mi sembra una legge fatta bene. Ministro, le vorrei cortesemente far notare che anche questo indice cambia. E anche più rapidamente perché basta che una cresca un attimo di prezzo ed entra nelle medium caps. Inoltre, le vorrei cortesemente far notare che dovrebbe specificare se questo 5% è riferito al totale o al 70% suddetto. Come già detto, aiuto stagista, rompi scatole e tu non diventerai mai stagista. Cazzo mene. Cazzo tuoi. Ed eccoci qui finalmente alle regole del PIR. Le prendiamo della Banca d'Italia. Niente proprio di meno. Sfonte autorevole. Vediamo un po'. Caratteristiche dei sottoscrittori. I PIR possono essere sottoscritti solo da persone fisiche residenti in Italia. Ok. Anche i minorenni possono essere titolari di un PIR. Ok. Le condizioni sono. Almeno il 70% del PIR deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane o europee con stabile organizzazioni in Italia. E faccio notare che il fatto che una società sia italiana o meno non è chiaro. Ad esempio, Ferrari non è italiana. È olandese. E soprattutto che una società che è italiana poi, puff, all'improvviso può diventare non italiana. Basta che sporta la sede. O una società che con stabile organizzazioni in Italia può non avere più la stabile organizzazione in Italia. Poi, di questo 70%, almeno il 30% deve essere investito in società non incluse nell'indice azionario Fuzemib. Quindi, sembra 30% come vuoi tu. Poi, 70% devono essere italiane o simili. E di queste, e faccio notare che ci sono parecchie aziende straniere che hanno una stabile organizzazione in Italia. Deutsche Bank, ad esempio. Di questo 70% è il 30%, quindi è il 21%, devono essere aziende non incluse nell'indice azionario Fuzemib, quindi non le 30 big cap o quelle che sono, e il 5%, e qui non capisco se è il 5% del 30% o del 70% o di tutto, non incluse neanche nel Fuzemib cap. Ok, in più, questo direi sacrosanto, ogni singola società emittente non può essere investito più del 10% del PIR. Faccio notare che tutte queste regole sono soggette, uno, al cambiamento degli indici, che gli indici possono cambiare e anche velocemente. Due, al cambiamento della capitalizzazione. Una società che magari ti sfiorà, era al 9%, all'improvviso ti va all'11% perché aumenta il suo prezzo. Benissimo. Poi ci mettiamo anche dei limiti perché sia mai che regaliamo troppi soldi, questa è l'unica regola sensata, è di tutto detto a questa baracca. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR nel quale può investire non più di 40.000 euro all'anno e il minimo è 500 euro e entro un limite complessivo di 200.000 euro. Ok, inoltre devi detenere il PIR per almeno 5 anni. Ok, la vendita anticipata agli strumenti finanziari inclusi nel PIR non comporta la perdita dei benefici fiscali se ricavate l'investito entro 90 giorni. Questa è una roba che, sì, è fatta per fare in modo che se qualcosa viene liquidato, fallisce, tu riesci a recuperarlo. Però è assurdo perché ti dà in teoria la possibilità di fare trading addirittura, può diventare un PIR di trading. Ok, quindi come capite bene, e non ci vuole una scienza per capirlo, un PIR è ingestibile da un privato perché il privato deve stare attento a tutte queste cose. Se deve controllare le aziende ogni giorno, vedere che non cambino sede legale, e questo nessuno te lo dice, che non tolgano la sede, la stabile organizzazione in Italia. Deve controllare la capitalizzazione, che non vada sopra a certi livelli. È una cosa completamente ingestibile da un privato. Quindi l'unico modo per farsi il PIR è comprare uno strumento finanziario che investa lui in queste cose qui, esattamente seguendo le regole del PIR. E questo strumento finanziario Direkta ce lo propone su un piatto d'argento. Quindi Direkta ci propone Investi Italia PIR, il conto del PIR. Ok, è un conto separato dal vostro conto originale, quindi avrete un conto completamente separato, e attenzione, completamente separato, eh. Su cui potrete comprare solo ed esclusivamente l'ETF Amundi FTS Italia PMI PIR 2020 UCIZ Accumulazione. Quindi solo questo strumento finanziario. Faccio subito l'esempio. Entro, beh, entro sulla mia login. Io ho due login su Direkta. Questa è la login del PIR. Ci entro. E OTP. Ecco, qui sono entrato. Investimenti, vedete, non ne ho. Cioè, questi due sono, è soltanto una lista di test, non sono gli investimenti che ho. Portafoglio vuoto. Ok, ho ben 5.000 euro che mi sono bonificato. Ehm, l'unica cosa che è in comune con l'altro, con l'altro conto, è il eventuale bonus commissionale che avete. Non potete, ho appena parlato con Direkta, mi hanno contratto al telefono, non potete trasferire, questo video non è sponsorizzato, eh, non mi danno, mi danno nemmeno il bonus commissionale. Potrebbe o meno darmi quello. Non potete trasferire soldi da un conto all'altro. Se proprio, proprio volete farlo, dovete chiamare il servizio clienti e chiedere che per piacere ve lo facciano. Quindi lo chiedete solo per importi ingenti. Normalmente dovete proprio fare il bonifico, indicando come Direkta ha un solo IBAN, non ha l'Iban personalizzati, quindi dovete fare il bonifico all'Iban di Direkta, indicando il vostro codice, il codice del conto, nel mio caso F7077. State attenti perché è diverso da quell'altro, eh, quindi non potete fare scambi, spostamenti di denaro da un conto all'altro. E su questo conto potete comprare solo ed esclusivamente quell'ETF lì. Ok, e torniamo qui. Ok, niente, in cosa investe questo ETF? Prima di comprarlo andiamo a vedere. Direkta investe nelle società a media e piccola capitalizzazione, quotate lo solicitino principale di Bostelliana, quindi lui per sicurezza non prende proprio per niente quelli grandi, zero. Con esposizione sull'economia ineriale delle PMI italiane. Investe indicativamente in tutti i titoli dell'indice Frizza Italia Mid Cap e nei 20 titoli del Frizza Italia Small Cap, perché vi ricordo, lo stagista ha deciso che ci buttiamo anche le small cap. Non sono presenti i titoli del listino EGM? Ah, è ok, per fortuna, perché questo è il mercato su cui si fanno pochissimi scambi, quello che lo stagista suggeriva di mettere. E al seguente link è disponibile la metodologia, vi dico, non è vero, so che se cliccate sul link, sì, ci sono le metodologie, ma vediamolo. L'ultima volta che l'avevo vista non era molto comprensibile, eccolo, intanto dovete cercarlo. L'indice Mid Cap è questo. Questo come si chiama? Peer PMI questo. O Peer PMI All. Non si sa. E comunque io vedo che ci clicco e non mi dà metodologie, quindi non è che ci sia propria metodologia. Però andiamo a vedercelo su JustETF, perché essendo un ETF è indicato su JustETF. JustETF. Andiamo a vederlo. Ci metto l'easing. Eccolo qui. La mundipeer. Vi ricordo che l'unico vantaggio che avete è fiscale, cioè non c'è altro vantaggio. Cerca, perché ogni volta mi parla in inglese, non è dato di sapere. Comunque traccia l'indice che abbiamo già visto. Vediamo cosa era dentro, dai. Ecco qui. Top 10 holdings. Borromello Cucinelli Ordinaria. Deve essere probabilmente la più grossa delle mid cap. Buzzi Unicem. Reply. Queste sono aziende grossette, eh. De Longhi, IREN, ok. Freni Brembo. Ok, vediamo. Consumer Discretionary. 26%. Finanziare 20%. Industriali 15%. Tecnologia 10%. Materiali 9%. Quindi gli mancano appunto quelle che avete visto. Inter San Paolo, Unicredit, Enel, Eni, Generali, eccetera, eccetera. Proprio lui, nonostante possa in teoria metterci dentro il 30% di quelle, e le evita assolutamente per essere ben sicuro di non farvi uscire dai parametri del PIR. Ok, vabbè, abbiamo un po' di... È quotato sulla borsa italiana e non si capisce per quale arcano motivo è quotato. Anche sulla borsa messicana, dove a quanto pare sono... È un reciproco scambio tra Italia e Messico. Noi compriamo il loro ETF e loro comprano i nostri. Questa è una joint venture. Perché è quotato sulla borsa messicana? Vabbè. Ok, che tra l'altro loro non beneficiano di questo. Benissimo. Vediamo un po' di fact sheet, che magari può essere rilevante, ma penso che abbiamo già visto tutto. Ecco, traccia il suo indice, dignitosamente. Ok, tutta Italia. Abbiamo anche i principali componenti. Brunello, sempre gli stessi, comunque, sì. Il KID lo possiamo anche scaricare, ma tanto è sempre relativamente inutile. Tra l'altro gli dà un rischio 4. Io sulle mid-cap italiane gli avrei messo un minimo un 5,6. Ok, questo al solito sono degli scenari che, se tirate un dado, fate le provisioni migliori. Ok. E abbiamo anche i costi. Incidenza annuale dei costi ha un terro dello 0,4. Quindi l'incidenza annuale dei costi è 0,4%, qualunque massa di anni lo otteniate. Quindi ogni anno lui si ciuccia lo 0,4. Ok? Diciamo è in linea con i terro sulle mid-cap. Considerate che questo è un mid-cap, tra l'altro mid-cap di un paese piccolo. Oddio, anche se ne ha solo 76, eh. Secondo me se ne sta, forse un filo potrebbe anche limarcelo, grazie. E quindi Amundi, se un filo ce lo vuoi ridurre, ne saremmo contenti. Ok, bando alle ciance e andiamo a comprarlo. Ci fa pure un'offertona diretta. Se lo compro, cos'è che mi fa? Non mi fa pagare, penso, le commissioni se acquisto almeno 2.000 euro. C'era scritto da quel parte, eccolo qui. Grazie all'accordo zero fee con Amundi, le commissioni prodì in acquisto, quindi in vendita me li fa pagare, superiore 2.000 euro sono a pagare a zero. Così io andrò adesso all in. Dunque, eccolo qui, patrimonio 5.000. E niente, investimenti. Notare che se io cercassi Buzzi, ad esempio, che peraltro è un'azienda che sarebbe molto bello se Directa ci desse la possibilità di farci il nostro peer. Quindi io cercassi Buzzi che era un'azienda perfettamente lecita che c'è pure dentro all'etf. Ok, posso, ma se clicco su negozia, vedete, io provo a comprare una Buzzi. Mi dico compra e lui mi dice la tua richiesta non può essere inoltrata. Conto non abilitato a questo tipo di strumento. Quindi esiste solo uno strumento su cui hai abilitato il conto. E me lo dai pure. Conto, ce l'avevo, vabbè, cerchiamo. Peer. No, Pirelli, ho capito. ETF, Peer. Non c'è. Oh, riusciremo a mai trovarlo? Me l'avevo messo tra l'altro nella lista. Eccolo qui. Me l'avevo messo nella mia lista di test. Avevo messo anche Buzzi. Ok, questo adesso lo compriamo. Quantità, controval... Non metto la quantità, metto il controvalore. 5.000. Quindi cerco di comprarmene 5.000. E me ne compra solo 32, vuol dire che mi avanzeranno dei soldi. Mannaggia me. E niente, vado a mercato però. Contovalore 5.000. Ok, 32 me ne compra. Compra. Come non può essere inoltrata? Eh, ma ciccio bello, 5.000 io ce li ho. Ma dai. Ok, compriamone 31. Ah, perché 32... 32, 4.900... Questa è una cosa di directa che mi sta veramente sulle scatole. Cioè, tiene un margine molto grande e non mi fa comprare perché... Cioè... Vai, proviamo. Compra? No. Cioè, mi vuole che io tenga almeno 250 euro di margine. Ma perché? Vabbè, ne compriamo 31 directa. Ok, compra. Eh, valore dell'operazione superiore a disponibilità. Directa A. Cioè, 30. Ok. Oh, fino al mio miracolo. Grazie, directa. Stai operando su un prodotto complesso. Completo il questionario dedicato. Non ne ho nessuna intenzione. Proprio nessuna di completare il questionario. Sì, io probabilmente non mi sono sempre rifiutato di fare il questionario di directa. E giustamente directa è la legge che glielo obbliga. E mi avvisa che io sto acquistando un prodotto che non capisco. Ok, va bene. Non lo capisco e acquisto. Confermo. È successo qualcosa? Sì, c'ho questo prodotto. Oh, sono il felice possessore del... Mi sono fatto il peer. Ecco, peccato che adesso io c'ho questi... Ah, sono già in perdita di 4 euro. Bene. C'ho questi 400 euro di liquidità che me li dovrò ribonificare. Anzi, dovrò chiedere a directa se posso ribonificarmi. E qui vi do un'altra informazione molto utile. Perché io avevo fatto... Vedete, io avevo 5.000 euro. Ed era un po' che li stavo tenendo, quei 5.000 euro. Perché aspettavo di registrare il video. Mi ha telefonato una gentile signora dottoressa di directa. Proprio a me di persona, personalmente. Mi ha telefonato. Io speravo per offrirmi una succosa sponsorizzazione. Invece non mi ha infilato di pezza. Evidentemente è andato tutto in regali di finanziamento. Invece mi ha telefonato per dirmi che non è una buona idea tenere la liquidità ferma sul conto peer. Perché? Mi ha spiegato anche il perché. Perché la liquidità conta come investimento ed è un investimento non adatto al peer. Perché vi ricordate, il 70% deve essere in azioni italiane e la liquidità non è azione italiana. Quindi, directa, o meglio probabilmente le regole che ci sono, considerano la liquidità anch'essa un investimento. E quindi mi ha detto, stia attento, perché se lei tiene la liquidità per troppi giorni, va fuori dalle regole del peer. La loro soglia di tolleranza è 10 giorni. Siccome siamo a metà novembre, mancano 40 giorni a fine anno, quindi bisogna stare molto attenti a tenere liquidità sul peer. Lei mi ha fatto il calcolo, mi ha detto, può tenerla ancora per 17 giorni, una cosa del genere. Però, se aprite il conto di directa verso fine anno, state attenti, appena arriva la liquidità, voi subito entrate e comprate. Quindi la liquidità non la tenete neanche un giorno o al massimo la tenete un giorno. Lei mi ha fatto un calcolo, però mi ha detto anche il 10% di tolleranza. Questo vuol dire che su 40 giorni potrei tenere la liquidità solo per 4 giorni. Oddio, poi ci sarebbe anche la tolleranza del 30%. Quindi c'è tutto un meccanismo che è un pelo complesso, ma il messaggio è questo. Soprattutto se aprite il conto peer a fine anno, state attenti, perché la liquidità vi conta come la parte non peer, che è limitata, deve essere limitata, e quindi appena mettete liquidità, appena directa vi manda il messaggio, vi manda una mail, vi manda una mail dicendo che è arrivata la liquidità sul conto, subito, se possibile, andate in acquisto. E adesso finalmente ho acquistato e penso che chiederò al servizio clienti se posso togliermi questi 351 euro qui, in primis perché mi servono, eh sì, dura la vita, e in secondis perché non voglio che magari mi influenzino la liquidità presente sul conto. Non ci posso comprare più niente perché directa non mi fa comprare più niente perché vuole che tenga un margine ampio. Ecco, directa lo spiega qui e la responsabilità di mantenere la qualifica di peer compliant in accordo con la normativa resta sempre a carico del cliente. Quindi spiega un po', dice, due terzi dei giorni che intercorrono, quindi state attenti quando fate il primo versamento, subito comprate. Tanto potete comprare soltanto quella cosa lì, non avete scelta. Ok, deve essere conforme alle regole per almeno due terzi dell'anno. Beh dai, abbastanza clemente, più del 10% di quello che mi aveva detto a me. Ok, forse ho capito male io semplicemente. Quindi ricordatevi di non tenere la liquidità ferma lì e di non superare il limite di 40.000 euro all'anno. E anche il limite penso sia di 200.000 euro totali, vediamo sulla Banca d'Italia qui. Interessi e altri costi, regole, 200.000 euro complessivi. Quindi se siete Loretta Cucarelli, andateci piano, mi raccomando, non 200.000 euro tutti in un colpo solo. Ok. A questo punto mancano due cose. La prima cosa è come si apre, la seconda cosa è se conviene. Allora, se conviene per motivi di marketing del video, ve lo metto alla fine, così vi guardate sulle pubblicità e a me di sicuro conviene. E vediamo adesso come si apre. Ecco, Directa stessa ci dice come si apre. Directa ama le sue vecchie interfacce. Voi sapete che Directa ha tre interfacce. La Libera, la Classic e la Delight. Lei ama così tanto le sue vecchie interfacce, quelle del 1982, che le operazioni spesso si possono fare solo da lì. Eccolo qui. E' possibile aprirlo da Delight Menu e Classic. Quindi non potete aprirlo da Libera. Quindi dovete fare il cambio di interfaccia. Vedete, via Delight. Qui fate via Delight. Io adesso sono sul conto Piro, ma immaginate che io sia sul conto, quello solito mio conto di Directa. Faccio via Delight e mi sposto sull'interfaccia di Delight, di cui vi ho gentilmente preparato un orribile screenshot qui. Ecco qui, lo screenshot dell'interfaccia di Delight. Voi cliccate qua, su queste tre barrette. Ok? Info. Una volta che cliccate su Info, arrivate a questa cosa qui. Ok? Cercate il 5, Abilitazioni e variazioni contrattuali, e sotto trovate Creazione, nuovo conto, Investi Italia Peer. C cliccate sopra e tranquilli, andate su un'interfaccia del ventunesimo secolo, che è questa. Ok? Non capisco perché a me le cose me le dice in inglese. Mi ha dato il welcome, buongiorno. Mi dice welcome. Io vado avanti. Ok. Richiede il certificato, conferma la congruità. Potete stare confermando i dati che già avete mandato a Directa prima. Io ho fatto Request Certificate. Poi vado avanti. Sign the contract con InfoCert. Approvo, approvo tutto. Ecco qui. Dopodiché c'è il modulo W8BAN, che è quello in cui dichiaro di non essere residente fiscale negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Che poi tra l'altro servisse a qualcosa. Ogni volta lo compilo e ogni volta mi fanno pagare la doppia tassazione sui dividendi americani, lo stesso. Ok. Voi dite di sì. Poi. Ok. A questo punto c'è l'OTP. Al solito riceverete una password. Però attenzione che la riceverete su SMS. Se voi avete abilitato, ad esempio, la ricezione delle password OTP di Directa su Telegram, siccome questo è un conto diverso, la riceverete ancora a vecchia maniera su SMS. Quindi preparatevi a ricevere la via SMS. Travate molto più lunga del solito. Ok. E poi, finalmente, Process Completed. Vi potete scaricare tutti i documenti che avete firmato e siete a posto. A questo punto avete, come abbiamo visto prima, un nuovo... Ops, dov'è finito? Eccolo qui. Un nuovo... Un conto completamente nuovo. Vi consiglio di andare dentro le impostazioni e smanettare sulle varie cose. Sempre preferenze di trading. Potete cambiare il profilo commissionale. Ok. Oppure, anche qui, è il caso di... Ve lo dico subito. Dati personali. Periodicitare in dicontazione. Mettetela ad annuale. Non ho capito l'altro perché ogni volta me l'ha fatto tornare a trimestrale. Annuale. Io preferisco annuale. Vuol dire che pago il bollo ogni volta all'anno. Perché se è vero che questo conto è esente da cedole che peraltro non ricevo... Cedole e dividendi che peraltro non ricevo comunque e imposta sulle plusvalenze non è esente dall'imposta di bollo. Cucù, benvenuti. Quindi se lo aprite a fine anno sappiate che subito perdete uno 0,2% che è poco e quindi potete comunque anche aprirlo. Però sappiate che l'imposta di bollo quella l'ha pagate. Ok, quindi aprirlo abbastanza facile ci mettono un paio di giorni. Un paio di giorni a me ci hanno messo. E adesso vediamo se conviene. Facciamoci questo bel conto. Allora, considerate che in questo investimento ci stanno soltanto le azioni italiane a media e bassa capitalizzazione. Io vi sconsiglio e questo è uno sconsiglio finanziario io vi sconsiglio di allocarci un grosso quantitativo. Perché? Perché in teoria su questo conto voi dovreste allocarci esclusivamente la parte di portafoglio che sta per l'Italia. Ora, qui dipende da come allocate il portafoglio. Se lo allocate ad esempio con un famoso ETF mondiale completo la parte che sta all'Italia sarà meno dell'1%. Ve lo dico chiaro meno dell'1%. In più questo non investe nelle solite italiane Enel, Eni, Generali, bla 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 investe nelle medie e bassa capitalizzazione quindi direi metà della parte che normalmente è allocate all'Italia. Quindi se fate un portafoglio mondiale qui dovreste metterci a norma lo 0,5% del portafoglio. Fate voi quant'è. Vedete voi se vi conviene perché insomma quindi ci dovreste allocare una parte relativamente piccola. Se invece fate un portafoglio come lo faccio io equally weighted quindi ogni paese uno contro uno e il Salvador vale quanto gli Stati Uniti? E qui magari l'Italia vale un po' di più varrà che so un 4% quindi media capitalizzazione bassa due metà direi ha senso un 2% del portafoglio. Se però fate un altro portafoglio un portafoglio del tipo un terzo un terzo un terzo quindi un terzo emergente un terzo Stati Uniti un terzo Europa qui l'Italia pesa ancora ancora meno di prima peraltro e quindi ancora meno quindi la parte che ci andrà allocata del portafoglio è bassa non fatevi prendere la mano come so che vi so che vi fate prendere la mano con i BTP che ci mettete il 70% del portafoglio in BTP Italia perché o BTP Valore perché c'è la pubblicità piano piano calma e mi raccomando quindi percentuale la percentuale che allocate normalmente in Italia diviso 2 ok e contemporaneamente vendete dovreste in teoria vendere almeno parte dei titoli italiani per ridurre la percentuale dell'Italia dell'allocazione originale quindi per fare questo peer allora quindi quanti soldi ci mettete e boh conviene perché attenzione perché c'è un perché ha delle spese purtroppo Directa ci salassa e devo dire salassa di spese eccolo qui le spese Directa qui devo tirarti le orecchie è previsto un canone trimestrale di tenuta conto dello 0,05 sul conto valore del portafoglio inteso come titoli più liquidità con un minimo di 15 euro vuol dire che Directa ci fa pagare come minimo 15 euro al trimestre cioè 60 euro all'anno è tantissimo per un conto titoli è veramente tanto devo dire andiamo a farci due conti con Excel mi metto anche girato ok quindi Directa allora qui vediamo quanto abbiamo investito poi metto 5.000 perché è quello che ho investito io no? 50.000 manco per idea 5.000 metto anche dall'altra ok poi e spese annuali vediamo Directa quanto gentilmente ci fa pagare ci fa pagare praticamente un'imposta di bollo ogni trimestre 0,05 ci fa pagare praticamente l'imposta di bollo quindi 0,2% per questo però c'è un minimo di 60 euro sto calcolando le spese annuali quindi quindi il max tra 60 e questo devo mettere un punto in virgola perché ho Excel in italiano e non in inglese ok quindi io ho 60 se invece avessi investito tipo 10.000 euro sempre 60 se avessi investito 50.000 euro 100 ok benissimo e questo punto però attenzione mi conviene pagare questi 60 euro perché l'unico vantaggio che ho il bollo il bollo lo pago comunque e non lo considero perché lo pago sia che questi soldi li investissi nel peer e sia che questi soldi li investissi per i fatti miei quindi il bollo non lo considero nemmeno e quanto ho di guadagno ora intanto quanto ho guadagno questo è guadagno la più svalenza quanto ci aspettiamo di plussvalenza dalle medium e small cap italiane beh non lo so andiamo a vedere se abbiamo dei dati guarda vi dico subito forse sulle medium e small cap italiane abbiamo pochi dati però abbiamo dei dati su tutto il mercato italiano così una prima stima possiamo ottenere da qui questa è la storia proprio dell'etf che andiamo a comprare questa è la calcolatrice se non si capisse anzi la mettiamo così e così eccolo qui questa è la storia tra l'altro faccio notare che una volta era a come si dice a distribuzione pagava dividendi quindi è iniziata da 100 e adesso quota la bellezza di 163,97 quindi adesso quota 163,97 faccio un po' un conto della serva che non è corretto ci sommo i tre dividendi perché andrebbero sommati anche questi più 1,85 più 2,3 2,3 più è un po' un conto della serva abusivo perché andrebbero anche a capire i capitalizzati per tutta la crescita quindi sarebbero un po' di più guarda siccome ci butto un altro 2 così proprio a stima ok viene 172,62 e il prezzo originale era 100 ok quindi è cresciuto del 72,62% però è cresciuto di questa cifra quando da il 28 marzo 2014 al novembre 2023 quindi se arrivassimo a marzo 2024 sarebbero 10 anni quindi sono 9 anni e mezzo quindi risistemiamo a un anno quindi elevato alla e quindi aperta parentesi 1 diviso 9,5 e qui arriverà una batosta ok ha reso il 5,9% annuo quindi questo coso qui questo etf ha reso il 5,9% all'anno quindi io mi aspetto ogni anno di avere una plusvalenza di 5,9% per questa media ovviamente quindi di un grasso 295 tassa che dovrei pagare se fossi investito in altre cose in altri strumenti che non siano il peer è 76,7 euro e da qui vedete una notizia assai triste che il mio guadagno il mio risparmio ad avere un conto peer separato è di miseri 16,7 perché spendo 60 euro per avere il conto peer separato e risparmio in tasse circa il 76,7 peraltro questo 76,7 è completamente casuale perché un anno può essere un anno dipende da quanto vendo quindi e soprattutto la cosa ancora più triste è che questi 60 euro invece li pago subito quindi questi 60 euro io li pago subito volta per volta e invece quindi è meglio che mi tenga la liquidità adesso che ci penso e questi 76,7 quanto risparmio quindi con 5.000 euro siamo proprio ai limiti della convenienza risparmio la pizza anzi due pizze perché le pizze che ho mangiato a crutarolo le ho pagate 8 euro quindi due pizze e con 10.000 già più interessante vedete già qui risparmio 150 euro all'anno in media con 20.000 però inizia a salire no con 20.000 diventa molto interessante e con 50.000 qui inizia a salire salire le spese e dopo mi sa che a questo punto diventa lineare il risparmio perché le spese vanno direttamente in percentuale quindi torniamo alle mie miserie 5.000 quindi il problema essenziale di questo peer è che essendo limitato all'italia per un'assurda norma e anche per scelta dell'etf perché potevano ben buttarci dentro qualche azienda non italiana e tra l'altro faccio notare che potevano tranquillamente buttarci dentro aziende a media capitalizzazione europee con sede in Italia anzi pensandoci bene potevano si potevano buttarci dentro delle aziende europee potevano addirittura buttarci dentro delle aziende europee anche a grossa capitalizzazione con sede in Italia perché non erano nel Fuzzemib potevano buttarci in azienda europea a grossa capitalizzazione che avesse una sede operativa in Italia e ce ne sono tante quelle grosse quasi tutte e qui potete tranquillamente buttarcele così veniva un etf un po' più papabile perché per noi noi qui dobbiamo alloccarci a norma metà di quanto allocchiamo normalmente sull'Italia quindi pochissimo una volta quando io ho iniziato a investire tu investivi molto su borsa italiana perché era quello più facile da accederci ed era spesso anche l'unico a cui potessi accedere però adesso non ha più senso quindi ci deve allocare una parte piccola directa ti salassa di questi 60 euro e quindi il risparmio devo dire è proprio ai limiti quindi ve lo dico se investite come me 5.000 euro il risparmio non ne va alla candela se invece già mettete 10.000 euro un 150 euro di risparmio teorico e attenzione che le commissioni directa le pagate ogni trimestre il risparmio invece ce l'avete soltanto quando vendete risparmio teorico ve lo portate a casa per avere un'altra stima del possibile ritorno e il ritorno ci serve per stimare quantità se potremmo pagare prendiamo qui il Fuzzamib mid cap perché in fondo si basa quasi molto su questo e poco sull'altro ora il Fuzzamib mid cap valeva in luglio 2009 22.216 e adesso vale 41.822 quindi 41.822 meno 22 anzi diviso diviso no aiuto 41.822 diviso ritorniamo qui che non me lo ricordo più 22.216 22.216 ok è cresciuto dell'88% poco eh in tutti questi anni quindi va da un luglio 2009 a un facciamo luglio 2023 quindi 10 11 12 13 14 anni e un pezzettino quindi facciamo 14,3 anni ok elevato alla 1 diviso 14.3 ok ha reso il 4,5% una tristezza assoluta quindi in questo caso qui 4,3% allora mettiamo questo parametro qui 4,3% questa è la simulazione di quanto rende prima era 5,9 se invece prendiamo il 4,3 col 4,3% mentre addirittura io ci vado in perdita ad avere il conto su directa quindi siamo con 5.000 euro siamo veramente veramente ai limiti ok quindi direi che mi permetto è vietato consigliare strumenti finanziari ma non è vietato consigliare conti mi permetto quindi di consigliare questo conto a naso dai 10.000 euro in su 10.000 euro in su questo conto vi fa risparmiare soldi vediamo con questo misero guadagno che è più piccolo di prima con 10.000 euro già ci risparmiate ancora 111 euro quindi ok quindi a naso è un conto da 10.000 euro in su però 10.000 euro in su vuol dire che voi avete allocato sull'Italia in totale un 20.000 euro o che siete dei fan delle aziende italiane a media e piccola capitalizzazione oppure che avete allocato sull'Italia 20.000 euro e quindi avete un portafoglio immagino così a stima minimo minimo di mezzo milione di euro per metterci 20.000 euro solo sull'Italia quindi oppure molto sbilanciato sull'Italia può anche starci quindi consiglio almeno 10.000 altrimenti purtroppo possiamo fare di cara directa se mi senti e abbassaci queste commissioni dai 15 euro metticele a 5 5 siamo contenti e te lo facciamo ciao a tutti mi sarebbe piaciuto fare il PIR senza pagare i 15 euro grazie a tutti Grazie.